Buongiorno ragazzi, oggi vediamo la stima di danni da inquinamento. È un esercizio di nuovo svolto che aveva preparato il professor Salotte. Leggiamo un po' il testo. La fuoriuscita di gas tossici da un'industria chimica provoca danni di diversa entità a un'azienda viticola confinante. Nel dettaglio si edivenziano i vari gradi di danno e qui ci indica tre tipi di danni diversi. La morte di 280 viti al sesto anno di impianto. In questo caso parliamo quindi del soprassuolo, morte di 280 viti. Poi lesione di tralci e foglie a 320 piante con un danno quantificabile in una diminuzione di reddito del 20% per 5 anni. Quindi qua abbiamo un secondo danno che riguarda i mancati redditi e poi abbiamo la perdita dei prodotti in corso di maturazione sulle piante morte danneggiate e quindi abbiamo un terzo danno che sono i frutti pendenti. Dopo aver esaurientemente descritto le caratteristiche tecnico-economiche del fondo e assunto con giusto criterio gli elementi necessari stimare con procedimento analitico l'indennizzo spettante al proprietario che ci dice che è un coltivatore diretto. Allora qui abbiamo l'interpretazione del testo. Dalla lettura del testo spara chiara la natura del quesito è stimativo. Si deve stimare l'indennità spettante al proprietario coltivatore diretto di un vigneto danneggiato dagli scarichi di un'industria chimica e quindi viene eseguita la stima secondo questi punti, questo schema. Naturalmente ci sarà la premessa, la descrizione del fondo dove descriviamo sia il capitale agrario che il capitale fondiario e poi la determinazione del soprassuolo del vigneto. Questo perché? Perché abbiamo detto che i danni consistono in questi tre tipi di danni e quindi per la stima del valore del soprassuolo, la stima delle 280 viti, noi dobbiamo andare appunto a stimare il valore del soprassuolo che è dato dal valore intermedio al sesto anno meno il valore della terra nuda e chiaramente per fare questo dovremo andare a fare un'analisi dei redditi, quindi dei prodotti, lavorando sempre a ettaro, quindi della PLV, poi facciamo un'analisi dei costi nei vari anni del ciclo, facciamo il grafico, troviamo il saggio di capitalizzazione fondiaria e poi determiniamo il valore della terra nuda e il valore del vigneto a sei anni con il metodo dei redditi passati, dopodiché riusciremo a determinare il valore delle piante al sesto anno. Poi dovremo stimare il secondo e il terzo anno e fare la conclusione. Allora io poi vi lascio le slide di questa, vi lascio il file in pdf di questa stima, quindi insomma sulla premessa, la descrizione del fondo andiamo un pochino alla veloce perché è sempre quello, è sempre una descrizione come deve essere fatta, ne abbiamo già viste tantissime, passiamo alla determinazione del valore del soprassuolo del vigneto, ok? Allora iniziamo dalla PLV, di nuovo dividiamo il ciclo produttivo in le tre fasi, terzo e quarto anno la fase di giovinezza, 5 ventiseiesimo maturità, 27 e 30 vecchiaia, diciamo abbiamo detto che per un vigneto un ciclo plausibile è di 30 anni, vedete che qui mette la produzione a ettaro, il prezzo in tonnellate è a euro tonnellata e quindi la PLV totale. Qui fa la media ponderata, quindi 6.400 per due anni, 8.826 meno 4 fa 22 anni e 7.200 dal 27 al trentesimo anno, quindi 30 meno 26 che fa 4 diviso i 30 anni di ciclo e quindi abbiamo una PLV media annua di 7.840 euro. Passa poi al calcolo dei costi, dei varianti, anni del ciclo e quindi inizia con le lavorazioni al primo anno e qui mette il costo di impianto con tutte le operazioni che vengono eseguite a cui aggiunge un impianto di irrigazione e direi che questo è un errore perché è stato preso da una stima di un meleto ma nel vigneto produzione doc barbera direi che l'impianto di irrigazione proprio non ce l'abbiamo. Passa poi al quindi abbiamo queste spese culturali, passa poi alle spese generali e qui abbiamo le quote sui fabbricati con il dato a ettaro che troviamo in descrizione così come quello delle quote macchine. Abbiamo ecco questi contributi consortili di nuovo sono 50 euro a ettaro per l'irrigazione per scorrimento ma visto che non c'è l'impianto io non ce li metterei proprio e poi gli stipendi della PLV, cioè il 3% della PLV e quindi abbiamo un totale delle spese di 149 mila euro a cui si aggiungono gli interessi sulle scorte e gli interessi sul capitale di anticipazione per cui al primo anno i costi totali risultano essere 26.208 euro. Passa alle lavorazioni del secondo anno e quindi di nuovo abbiamo tutte queste voci, io toglierei di nuovo l'irrigazione alle quali aggiunge gli interessi sulle scorte, sulle macchine e sul capitale di anticipazione e aggiunge poi ancora gli interessi totali per cui arriva a 3.163 euro. Calcola poi ancora i lavori in piena produzione con tutte le operazioni che vengono fatte, in questo caso mi sembra che non ci sia l'irrigazione se ci fosse non va messa di nuovo e aggiunge chiaramente i costi sugli interessi e cioè gli interessi come costi e ottiene delle spese dal terzo anno di 5.724 euro. A questo punto facciamo la rappresentazione grafica, in verde mettiamo i prodotti, in rosso mettiamo i costi e secondo me bisognerebbe aggiungere qui al trentesimo anno le spese per l'espianto di questo vigneto. Passiamo chiaramente, poi dovremo capitalizzare, quindi dobbiamo determinare il saggio di capitalizzazione scrivendo sempre la solita frase e dal rapporto sommatoria dei BF fratto sommatoria dei valori abbiamo ottenuto un saggio di capitalizzazione del 2,5%. Non essendoci comodi o scomodi particolari si adotta proprio questo saggio. A questo punto utilizzando questo grafico andiamo a fare la sommatoria da 0, attenzione qui è 30 perché il ciclo di 30 anni, da 0 a 30 dei prodotti, portando quindi tutti i prodotti sul trentesimo anno e otteniamo 360.591 euro a ettero, facciamo la stessa cosa sulle spese sempre sui 30 anni e otteniamo 314.734 euro per cui il beneficio fondiario dell'intero ciclo di 30 anni è di 45.857 euro che viene capitalizzato con la formula di capitalizzazione di periodicità e otteniamo un valore della terra nuda a ettero di 41.781 euro. A questo punto passiamo la determinazione del valore intermedio del vigneto di 6 anni con il procedimento dei redditi passati visto che siamo più vicini all'impianto. Allora vi ricordo la formula che è questa qua e quindi il valore al sesto anno sarà il valore della terra nuda portato al sesto anno più le spese passate cioè da 0 a 6 meno i prodotti passati da 0 a 6 e viene 76.922 euro a ettero. A questo punto possiamo determinare il valore del soprassuolo perché abbiamo il valore intermedio meno il valore della terra nuda e quindi sappiamo che a ettero le piante valgono 35.141 euro. In base al sesto d'impianto sappiamo che in un ettero ci sono 4.000 piante e quindi il valore di ogni pianta sarà dato dal valore di soprassuolo a ettero diviso 4.000. Questo è il valore di una pianta. Le piante morte sono 280 quindi il primo danno del soprassuolo sarà il valore di una pianta per 280 piante pari a 2.460 euro. Poi passiamo alla stima del minor reddito delle 320 piante parzialmente danneggiate. Allora siamo al sesto anno quindi sappiamo che la PLV è di 8.800 euro e che i costi sono di 5.726 euro. Vuol dire che praticamente il BF è di 3.076 euro e questo BF ci è dato da 4.000 piante quindi il valore reddito medio per pianta è 0,769. Le piante danneggiate sono 320 quindi il reddito di 320 piante se non ci fosse stato il danno sarebbe stato il reddito di una pianta per 320 quindi 246 euro. La riduzione del reddito ci dice il testo è del 20% e quindi ho una riduzione di 49 euro a ettaro e questi mancati redditi li avrò per 5 anni quindi faccio l'accumulazione iniziale di e dei mancato reddito di un anno per 5 anni pari a 224,40 euro. Passiamo poi alla stima dei prodotti in corso di maturazione. Il professor Salot prevede che il danno, assume che il danno sia stato arrecato in il primo di luglio e quindi effettua la stima dei frutti pendenti poiché sono già visibili i grappoli. La stima dei frutti pendenti bisogna risolvere chiaramente questa formula qua quindi i prodotti al momento della maturazione meno le spese ancora da sostenere meno gli interessi sui capitali investiti tutti portati al momento M cioè al primo di luglio e quindi calcola i prodotti vengono effettivamente 8.800 euro come avevamo già detto nella stima calcola tutte le spese che devono essere eseguite entro la raccolta e poi vedete che fa prodotti meno spese meno v per rc per t. V è praticamente il valore della terra nuda per il saggio di capitalizzazione per 75 giorni perché dal primo luglio al 15 settembre sono 75 giorni tutto portato al momento M cioè al primo luglio cioè portato indietro di 75 giorni. Questi sono i frutti pendenti di 4.000 piante quindi trovo il frutto pendenti di una pianta e poi moltiplico per le 600 piante che sono state danneggiate e ottengo un valore di 896 euro quindi il danno totale è la somma dei tre danni stimati conclusione data e firma.